Ciao, io sono Davide, lavoro per Troni Rigamonti da circa 13 anni, sono nel settore audio-video, mi piace soprattutto il rapporto con la clientela, trovare le soluzioni corrette e soddisfare nel migliore dei modi le loro esigenze. Durante la Candy non ho assolutamente intuito che la cosa fosse, tra virgolette, finta, anzi, sembrava proprio un cliente a tutti gli effetti, quindi è stata molto realistica, era anche molto simpatico. Come pazienza mi ritengo di avere la sufficienza per poter soddisfare le richieste di tutti i clienti, anche perché comunque il nostro lavoro sta anche in quello, quindi soddisfare e soprattutto risolvere determinate esigenze che giustamente il cliente ha e che magari per le sue competenze non è in grado di soddisfare. Noi siamo qua per questo, quindi assolutamente nessun problema da questo punto di vista. Il cliente ha sempre ragione? Sì, più che altro che il cliente è lui che decide, quindi ha sempre ragione per le sue esigenze, quindi noi siamo qui per soddisfare le sue richieste e quindi accontentarlo in ogni sua richiesta, quindi sì. Un cliente dovrebbe venire da Rigamonti perché noi cerchiamo di più che vendere prodotti, principalmente di risolvere esigenze che ha il cliente. Questo nella maggior parte delle ipotesi si tramuta in vendergli un prodotto, ma tante volte magari il prodotto l'ha già comprato e quindi il venire qui anche in un secondo momento è semplicemente per sapere come utilizzare al meglio il prodotto da lui comprato, quindi diamo un'assistenza anche nel post vendita sull'utilizzo del prodotto acquistato che io se mi metto nei panni di un cliente non sempre trovo nei vari negozi in cui vado, quindi secondo me questa è una caratteristica molto importante. E poi noi consideriamo il cliente come persona prima che come cliente, quindi cerchiamo anche di costruire un rapporto che vada al di là della semplice vendita, ma che sia proprio un rapporto anche quasi amichevole o comunque di scambio di idee al di là dell'acquisto in sé, che è più una cosa materiale, quindi si cerca magari di costruire una cosa che vada appunto più sull'esigenza e sulla richiesta che lui ha. Vi saluto, vi aspetto, tanto sapete dove trovarci, sicuramente vi troverete bene, vi aspettiamo numerosi, ciao!